Che la Nato sia una struttura militare criminale di cui fa parte l'Italia l'ho affermato più volte, specie durante la guerra di Jugoslavia quando Presidente del Consiglio era Massimo D'Alema. Ebbene, dopo circa un decennio ho avuto il piacere di sentir dare la medesima definizione della Nato da Massimo Fini, un giornalista scrittore e non certo un rivoluzionario, all'interno di una trasmissione della RAI Linea Notte. Questa organizzazione di assassini al servizio degli Stati Uniti, che è la Nato, si vale quasi esclusivamente di militari mercenari e non ha sede presso uno dei mari dei pirati della Malesia, no. Ha sede in Europa e la paghiamo tutti noi. Con i nostri soldi la pagano tutte le popolazioni degli Stati che compongono la comunità europea. Da quando gli Stati Uniti, riuscendo a estorcere una risoluzione dell'ONU, che comunque limitava un intervento esterno a interdire una determinata area al volo aereo, la Nato si è scatenata. Sta tirando bombe, missili, ordigni di ogni genere. Sta distruggendo infrastrutture, centrali elettriche, uccidendo civili che diceva di voler salvare. Credevano di aver individuato Gheddafi. Era vero. Le informazioni che hanno avuto da qualche spia corrispondevano al vero. Gheddafi era in una determinata case che hanno immediatamente distrutto. Il risultato è stato che Gheddafi ne è uscito il leso. In compenso hanno ucciso tre bambini e uno dei figli di Gheddafi. Noi non manchiamo di informare il capo dello Stato sul nostro pensiero, su ciò che diciamo. Recentemente ci ha scritto il suo consigliere Pasquale Cascella dicendoci che il Presidente si può muovere in stretti confini costituzionali. Bene, questo lo sapevamo. Ma vorremmo che gentilmente Cascella ponesse una domanda al capo dello Stato. Il popolo italiano, pensiamo, non ne possa più di questo scempio. E lui si rende conto che contribuisce efficacemente a calpestare l'articolo 11 della Costituzione Repubblicana? Grazie a tutti. Grazie a tutti.